L'immagine che vedete sullo schermo è apparsa sul web pochi mesi fa. È un'immagine che fa male. Parla di dolore, violenza, silenzio. Il pianoforte di questa foto è stato oggetto di un atto vandalico, compiuto dalle milizie talebane. Ci troviamo a Kabul, in Afghanistan, in quella che fino a pochi minuti prima era una scuola di musica. Oggi la musica in Afghanistan è tornata a essere vietata. Era già successo fra il 1996 e il 2001 per cinque lunghi anni. In quegli anni, convinti che la musica avesse un'influenza corruttiva, i talebani imprigionavano chiunque trovavano a suonare o a cantare. Addirittura arrivavano a torturare e uccidere i musicisti, per cui tantissimi artisti lasciarono il paese. E oggi questo sta ricominciando ad accadere, perché l'Afghanistan è tornata a essere la terra del silenzio. Vi starete certamente chiedendo perché io vi parlo di Kabul e di Afghanistan. Allora, è doveroso un passo indietro. Siamo a Pesaro, città della musica UNESCO, città che ha dato i Natali a Gioacchino Rossini, nella quale io vivo, lavoro, e dove è nata Orchestra Olimpia, della quale io sono direttrice e cofondatrice. La storia dell'orchestra è legata a un fatto vero di vita vissuta fra due amiche, Roberta, collega pianista, e me. Nel 2018 Roberta viene colpita da una tremenda, rara malattia, passano lunghi mesi molto duri, nei quali lei è anche in pericolo di vita. Oggi tutto questo è un brutto ricordo, Roberta è informissima, però allora, dopo questa brutta esperienza, decidemmo di organizzare una grande festa per celebrare la vita. E così abbiamo organizzato un concerto di beneficenza. Volevamo fare una raccolta fondi per la ricerca scientifica a sfondo medico. Per l'occasione abbiamo dato vita a un sogno che era nel cassetto e aspettava solo di essere realizzato. Volevamo costituire un nuovo ensemble sinfonico, una formazione orchestrale completamente femminile. Fu così che abbiamo dato vita a Orchestra Olimpia. Il debutto è stato l'8 marzo, il giorno della festa della donna, del 2019. Ancora non sapevamo la portata di quello che stavamo facendo, ma quel concerto ebbe un impatto fortissimo, non solo sul pubblico, ma anche su tutte noi. Lì, su quel palco, noi abbiamo sperimentato la forza di essere unite intorno a una causa comune e avere la musica come strumento, e anche la nostra passione, per sostenerla. E allora è stato così, dopo quel concerto, che si è insinuata nella mia testa un'idea. Io volevo incontrare altre realtà come la nostra, altre realtà femminili, per dare vita a delle collaborazioni virtuose intorno a delle cause comuni. Perché la musica può fare. Allora ho cominciato a fare delle ricerche e nel corso di queste ricerche sono incappata nella storia di una orchestra, una storia che mi ha affolgorata, perché questa orchestra è unica nel suo genere. Parlo di orchestra Zora. Zora è un'orchestra afghana, costituita da giovani donne, per lo più profughi di guerra o orfane. Per loro la musica significa non solo riscatto sociale, ma anche libertà d'espressione, possibilità di un'istruzione, molto altro ancora. Nel loro caso è come se la musica può fare. E allora, folgorata da questa storia, ho cercato altre informazioni. Quest'uomo, Ahmad Sarmast, è indissolubilmente legato alla storia di Zora. Se non fosse per lui non esisterebbe questa orchestra, perché Sarmast era un musicista, anzi è un musicista, un musicologo, che è scappato dall'Afghanistan durante la censura, è tornato e ha partecipato alla ricostruzione della cultura musicale. Ha fondato un istituto musicale, l'Istituto Nazionale Musicale Afghano, guidato da un profondo credo. Transforming life through music education. Trasformare la vita delle persone attraverso l'istruzione musicale. Sempre guidato da questo credo, in questa scuola si educavano i ragazzi e le ragazze contro la guerra, semplicemente educandoli alla bellezza, alla convivenza, al rispetto dei più deboli, all'ascolto. Zora quindi nasce nel 2015 e per il semplice fatto di suonare, queste ragazze vengono ripudiate dalle loro stesse famiglie e vengono minacciate di morte. Nonostante questo, l'orchestra continua a suonare e le ragazze continuano a vivere. Ho parlato subito con Roberta di questa orchestra e della mia intenzione di incontrarla. E così inviamo una mail, d'accordo, ad Akhmad Sarmast, era all'estate del 2019, abbiamo avuto una risposta positiva e è cominciato un dialogo per un nostro incontro. Incontro che si è profilato come un vero e proprio gemellaggio, perché le ragazze sarebbero dovute arrivare in Italia, a Pesaro, e l'inizio di marzo del 2020, avrebbero incontrato le scuole, gli allievi del conservatorio, incontri istituzionali e ovviamente le prove con l'orchestra Olimpia, perché il tutto sarebbe finito nel concerto dell'8 marzo del 2020, inserito all'interno del calendario rossignano. Come potete vedere, questa è l'orchestra Zora con Sarmast, il calendario rossignano di quell'anno prevedeva tantissimi concerti con importantissimi artisti, tra cui abbiamo Caposela, il compianto a Zio Bosso, l'orchestra di Piazza Vittorio e molti altri ancora. E' arrivato il lockdown pochi giorni prima del concerto e quindi questo evento non è mai accaduto, le ragazze non sono mai arrivate e tutti gli eventi sono stati annullati. Avevamo con l'orchestra Olimpia anche una tournée in Cina che ci avrebbe portato a girare per il paese per 50 giorni in 30 sale da concerto. Il tutto è stato cancellato, ma non la mia idea. Il dialogo con Sarmast è continuato e quindi abbiamo cominciato a progettare delle attività online l'8 luglio di quest'anno e abbiamo realizzato un incontro. Noi collegate dal Museo Nazionale Rossini di Pesaro e le ragazze in diretta dall'Orfanotrofio di Kabul presso cui sono ospiti abbiamo suonato e ci siamo omaggiate reciprocamente con dei brani, i nostri tratti dalla tradizione musicale afghana e i loro dalla tradizione occidentale. Ci siamo salutate con una rivederci a presto ma di nuovo, di lì a poco, sono ritornate le milizie talebane e la vita di tutti gli afghani è cambiata. E di nuovo il silenzio è tornato al posto della musica. Molte delle musiciste di Zora sono riuscite a scappare quindi ad oggi sono sale e salve in luoghi sicuri. Anche Sarmast è scappato, si è rifugiato altrove e con lui stiamo continuando il nostro dialogo per un incontro fisico che avverrà nel 2023. Stiamo lavorando anche all'accoglienza di queste musiciste in Europa e Lisbona ha dato loro la base per poter ricostruire le attività dell'orchestra. Zora si ricostituirà a Lisbona. Come Olimpia stiamo cercando di aiutarle concorrendo alla raccolta degli strumenti musicali che serviranno loro per ricominciare a studiare ma anche a tenendo alta l'attenzione dei media. Abbiamo trovato degli importanti interlocutori in Radio 3, nella Fondazione Vanda di Ferninando e nell'amministrazione di Pesaro, Città della Musica Unesco. Considerato le difficoltà di questo momento storico mi reputo soddisfatta di questo risultato perché le mani tese dei paesi e delle città che stanno accogliendo e che accoglieranno queste ragazze permetteranno di ricollocare un'orchestra che sarebbe altrimenti scomparsa, un patrimonio culturale e umano troppo importante per andare prezioso. Con Orchestra Olimpia io sono riuscita a onorare la mia idea iniziale incontrare altre realtà femminili dare vita a collaborazioni virtuose intorno a cause comuni grazie alla musica proprio perché la musica può fare. Come sappiamo la musica non conosce distinzioni di genere geografiche, politiche. La musica è un linguaggio universale che trascende da qualsiasi distinzione o barriera. credo fermamente che la musica oggi non sia soltanto legata all'ascolto di un concerto al teatro o a un mero intrattenimento ma che sia un mezzo potentissimo del fare, per la crescita. Io, anzi noi, oggi ci troviamo qui in questo meraviglioso tempio italiano dell'educazione musicale che preserva e custodisce degli strumenti musicali importanti e preziosi e da un'altra parte del mondo c'è un'orchestra alla quale è stato proibito suonare. I musicisti hanno lasciato le loro case e ne stanno cercando di nuove e i loro strumenti sono stati distrutti. Zora ha superato i limiti geografici, i suoi limiti geografici e io oggi sono qui per raccontarvi la loro storia e la storia di una collaborazione che è nata intorno alla musica e che va oltre alla musica. Ma sono qui anche perché voglio suonarvi un brano afgano che oggi in Afghanistan nessuno può suonare né ascoltare. Però noi oggi qui lo possiamo condividere perché la musica può fare. applausi Grazie a tutti Grazie a tutti